qui termino questa registrazione scatola 3 39 anni oggi sano come un pesce e intellettualmente ho adesso tutte le ragioni di sospettare sulla cresta dell'onda o da quelle parti il giorno ormai è finito la notte si avvicina l'ombra già ci porta la visione finalmente vale dire ho notato un graffio sulla sua coscia e gli ho chiesto come se l'era fatto cogliendo l'uvaspina ha detto che viso aveva che occhi come crisoliti si appena ascoltato quello stupido bastardo per il quale mi prendevo 30 anni fa grazie a dio sono cose finite con la mia faccia sui suoi seni e la mia mano su di lei forse i miei anni migliori sono finiti ma non li rivorrei indietro grazie a tutti 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 Grazie a tutti.